Noi in Breaking Italy non ne abbiamo parlato perché non è proprio un argomento da Breaking Italy ma se seguite invece il nostro podcast Grandi Line o se avete una connessione a internet o se in generale respirate saprete del sommergibile civile che si è perso mentre portava dei turisti facoltosi a esplorare i resti del Titanic a una profondità di 4000 metri ecco, mentre il registro non è ancora stato trovato spero ovviamente lo sia che queste mie parole risultino vecchie già al momento della pubblicazione ma sono giorni che penso a una cosa ora, io non so se vi sia capitato di vedere le immagini riprese dall'interno di questo sommergibile da alcuni giornalisti di CBS l'anno scorso è una roba iper claustrofobica e dall'aria non particolarmente sicura visto che parliamo di un mezzo molto sperimentale o avanguardistico se vogliamo che infatti non era nemmeno il certificato l'azienda che l'opera afferma che questa certificazione non sia mai stata richiesta perché avrebbe rallentato l'innovazione essendo appunto un mezzo che non ha pari sul mercato ma ovviamente alla luce di quanto accaduto stanno emergendo scheletri nell'armadio come un ex pilota e consulente esperto che aveva espresso perplessità sulla sicurezza del mezzo e che era stato prontamente licenziato e poi remunerato con un accordo privato dopo che aveva fatto causa quindi tutto messo a tacere ora, vorrei un attimo ragionare su noi stessi e sull'importanza che diamo alle cose sia alla luce della curiosità della notizia perché non capita tutti i giorni che un piccolo sommergibile si perda sia per un discorso di empatia per quanto riguarda le storie nel senso sono tre giorni che ci occupiamo di questa cosa spasbodicamente ne stanno parlando tutti giustamente se ne parla è interessante ma in molti casi se ne parla perché noi tutti il primo commento che facciamo è semmai avendo la disponibilità economica richiesta non da poco per intraprendere un viaggio di questo tipo lo faremmo mettendoci quindi nei panni delle persone che si trovano ora con poco ossigeno ad avere a che fare con chissà quali avarie tecniche nel fondo dell'oceano con dei tizi che letteralmente guidano un tubo di metallo attraverso due monitor e un controller della Xbox ma noto e mi metto in prima linea che c'è un elemento estremamente interessante che è quello di assenza di quell'estremo giudizio che in genere abbiamo nei confronti di altre persone che intraprendono pericolosi viaggi in mare tipo i migranti irregolari di cui si disquisisce spesso di quanto irresponsabili siano stati a mettersi in un barchino su una chiatta su un peschereccio quindi senza abbastanza tutele senza acqua senza la sicurezza che il motore spinga la barca e funzioni a dovere ecco c'è spesso quell'elemento di giudizio che invece in questo momento per quanto riguarda il sommeggibile è un po' assente sia chiaro non ne faccio una questione relativa al dovrebbero o no partire non è questo il punto ma è più un'autoanalisi se volete su come io che ricco non sono e quel viaggio in sottomarino non potrei permettermelo sia comunque più portato a empatizzare e umanizzare delle persone che si mettono in mare per fare una cosa tutto sommato non necessaria come andare a guardare i resti del Titanic da un oblò che con individui che salgono in 600 su un peschereccio quasi come se mentre fare un viaggio in sottomarino che non farò mai e comunque non farei mai sia un'esperienza comunque nel reale delle possibilità l'ipotesi di essere un profugo su un barcone non mi passi nemmeno per la ticamera del cervello non la consideri realmente una possibilità un qualcosa che possa accadermi cioè fatico di più probabilmente noi tutti fatichiamo di più a metterci nei panni dei profughi eppure se dobbiamo essere sinceri cos'è la cosa più probabile che ci può accadere tra queste due pensiamoci bene di nuovo non ne faccio una questione di reali colpe in realtà spero queste persone tornino tra le braccia dei loro cari ci raccontino cosa è successo sarebbe interessantissimo meraviglioso e più un ragionamento di propensione al rischio tutti abbiamo guardato con estremo interesse Richard Branson che inaugurava il suo servizio di volo subrovitale l'anno scorso vi ricordate? sta cosa che ti fa volare 80 km di altitudine e al netto del fatto che il servizio non sia ancora partito e che sia pericoloso nel 2014 un pilota ha perso la vita in un volo di test non è una cosa così quel discorso del perché mai mettersi in quella situazione di rischio raramente è stato sollevato e sono peraltro situazioni di rischio che a quanto pare costeranno 450.000 euro a testa quindi non so volevo dire sta cosa giusto per ricordare quanto tutto sia relativo ai nostri vissuti a come ci percepiamo nel mondo a chi o cosa ci sentiamo simili oppure completamente diversi e completamente distanti come sono certo abbiate sentito perché la stampa nazionale sta dedicando l'evento molto spazio o me di consueto oggi è il giorno il primo giorno degli esami di maturità una buona fetta di studenti di ultime classi e come succede sempre in questo periodo dell'anno quello che è un normale reto di passaggio viene quasi mitizzato non feticizzato e il tutto quasi all'oscuro degli studenti stessi che difficilmente leggeranno le dichiarazioni di questo o quel politico anzi mi fa sempre un po' impressione come la scuola e della scuola si tende a parlare solo in due casi e il primo è ovviamente l'evento simbolo no? il momento di passaggio nessuno nessuno si ricorderà di questo momento di passaggio dico tra voi cioè nessuno sta anche guardando questo se siete studenti di maturità non state guardando questo video state pensando alle vostre cose e poi ve ne dimenticherete andrà così nel senso avrete gli incubi per molti anni io ho avuto gli incubi per molti anni ma poi ve ne dimenticherete l'altra ragione che porta in Italia a parlare di scuola sono le tragedie perché se è estremamente complicato fuori di certi parametri parlare dei problemi sistemici della scuola quindi la mancanza di fondi la dispersione l'accessibilità quando lo si fa è preoccuparsi appunto di grandi eventi le morti durante scuola lavoro il caso di afferrato bullismo ignorando però spesso dico come società le ragioni per cui certi fenomeni avvengono e anzi in qualche modo politicizzando tutto che è l'unico modo in Italia di parlare di qualcosa e non solo in Italia in questa ora si sta molto parlando di un caso che unisce infatti infanzia e politica a Taiwan perché nonostante in questo caso si parli di bambini bambini a cui sono state somministrate droghe ci si chiede anche come questo finirà per influenzare le delicatissime elezioni del paese facciamo un piccolo passo indietro e cerchiamo di capire cosa si intenda con droghe date ai bambini sono ormai settimane che le forze di polizia di Nuova Taipei quindi il gigantesco agglomerato urbano che circonda la capitale vera e propria di Taiwan Taipei appunto stanno indagando su alcune segnalazioni ricevute tra apri e maggio da parte di alcuni genitori che riportavano come i loro bambini fossero state date all'asilo delle sostanze sconosciute poi rivelate ai psicofarmaci e questo mescolandole peraltro uno sciroppo per la tosse per renderne più facile l'assunzione il tutto con lo scopo di sedare i bambini e di rendere immagino più facile la loro gestione che è una cosa terribile che non si fa si fa con gli anziani e gli anziani con gli anziani si può fare però con i bambini non si può fare con gli anziani si goccine però bambini i loro genitori si sono quindi resi conto che qualcosa non andasse quando i bambini in un caso già da febbraio quindi mesi prima è una cosa che va avanti da parecchio avevano iniziato a mostrare i segni tipici dell'astinenza da sostanze quindi erano sempre irritabili avevano dolori diffusi urlavano durante il sonno e dopo alcune domande avevano rivelato che i maestri dell'asilo avevano somministrato loro una strana pozione quindi il famoso sciroppo per la tosse e i genitori comprensibilmente preoccupati avevano subito segnalato la cosa alle autorità che hanno poi iniziato le indagini sono questo mese scoprendo in almeno otto bambini tracce di benzodiazepine e barbiturici giusto per capire di cosa stiamo parlando le benzodiazepine sono una classe di psicofarmaci potenzialmente molto forte ne fa parte il Valium ad esempio e hanno un effetto ansiolitico e sedativo per semplificare possiamo dire che agiscono riducendo l'attività cerebrale e tendono quindi ad essere usate nei casi di ansia di insonnia di convulsioni uso peraltro simile a quello che si fa dei barbiturici in questo caso il Fenovarbital quello riscontrato nei bambini e ben che ovviamente tra le due classi di sostanze ci siano molte differenze quello che ci interessa sapere è che in questo caso entrambe sono dei sedativi nel senso più generico e ancora più importante possono dare dipendenza cosa che poi è accaduta con i bambini in seguito alla scoperta della somministrazione delle droghe l'istituto scolastico è stato infatti chiuso la settimana scorsa i genitori della struttura sono stati multati per l'equivalente di circa 4500 euro e il preside e i cinque insegnanti responsabili sono stati direttamente arrestati interrogati per quanto poi rilasciati su colzione e al momento è attivamente in corso un'indagine per accertare le responsabilità dell'accaduto con la difesa principale che per ora sembra quella che i genitori avessero effettivamente acconsentito che gli insegnanti potessero somministrare alcuni farmaci ai bambini anche se rispondono sì ma non gli psicofarmaci nel senso che si parla proprio di una lista di cose che è stata autorizzata e difficilmente c'era l'oxanax in quella magari c'era magari c'era e non l'hanno visto però magari no ora sul fatto di che si faccia notare giusto due cose forse ovvie ma che vale la pena di osservare la prima è che parliamo di sostanze generalmente difficili da procurarsi di farmaci utilizzati che ne so per anestesie chirurgiche come nel caso del fenobarbital e la cosa fa ovviamente sorgere la domanda come hanno fatto degli insegnanti d'asilo a procurarsi un certo tipo di sostanze questione che ci porta subito alla seconda osservazione ovvero che molto probabilmente non si trattasse di un caso isolato e che forse all'asilo avessero a disposizione quelle sostanze perché la loro somministrazione è almeno un certo livello una cosa standard un fatto sistemico il tutto sembra essere confermato almeno in parte perché stanno emergendo testimonianze di come alcuni medici fossero soliti prescrivere quel tipo di farmaci per ragioni improprie anche ai bambini suggerendo insomma una pratica consolidata tale che le analisi per questo tipo di sostanze stanno adesso per sicurezza venendo inserite nei normali check up fatti e bambini quindi tutto molto grave ed è in questo momento che arriviamo alla politica perché al netto del fatto che si apre o aprirebbe la concreta possibilità di scoperchiare un vaso di pandora in cui si potrebbe scoprire che la pratica di sedere i bambini fosse molto più diffusa in città di quanto si pensasse in tanti si chiedono cosa abbia fatto il governo chi avrebbe dovuto occuparsi di quel problema ed è questo il caso è il caso di questa persona che viene tirata in mezzo in questo momento chi è? quello che sta riguardando è Ho Yu Yi sindaco di Nuova Taipei è candidato alle presidenziali di Taiwan che si terranno l'anno prossimo per eleggere la persona che andrà a sostituire l'attuale presidente Tsai Ing-wen e che è stato molto contestato per i ritardi nelle indagini e nella sua gestione della crisi potremmo dire a rendere però il problema ancora più delicato riportata tale da offuscare persino una problematica come la somministrazione di droga ai bambini è che Ho è il candidato del Kuomintang il KMT il principale partito di opposizione al DPP il partito progressista democratico di Tsai cosa che aggiunge un nuovo livello di politica internazionale a tutta la vicenda perché se il DPP ha sempre avuto una posizione anticinese Tsai ha per lungo tempo portato avanti una politica di avvicinamento agli Stati Uniti il Kuomintang non ha invece mai fatto mistero delle sue politiche più amichevoli nei confronti di Pechino e Do era stato considerato un candidato equilibrato che potesse avvicinare la Cina a Taiwan in un'ottica di riduzione delle ostilità scenario che ora potrebbe essersi un po' allontanato se la gestione del problema Asili si dovesse riflettere in un crollo significativo per il KMT mettendo quindi questi bambini al centro di una delle problematiche più importanti di questa parte di secolo insomma a prescindere dalla zona di mondo in cui si guardi le problematiche relative all'infanzia tendono quasi sempre ad essere focalizzate non sul problema in sé ma sulle conseguenze di quel problema sul modo migliore in cui la sacralità di una delle cose che spostano di più le opinioni e i voti cioè i bambini può essere sfruttata e strumentalizzata per colpire le coscienze e portare avanti le proprie idee e senza stare a scomodare i bibiano o lo spauracchio gender che di solito si fa alleggiare proprio sopra i bambini per terrorizzare tutti ci troviamo nel caso di Taiwan di fronte a una situazione di malasanità di terribile gestione di un fenomeno gravissimo ma che in qualche volta è stata nuovamente fatta scivolare nella politica insomma tutto il mondo paese ci spostiamo negli Stati Uniti e per una volta parliamo di una buona notizia riguardante la comunità trans cioè quelle persone che scelgono di vivere in base al genere in cui si identificano e non al sesso biologico di nascita la notizia infatti che un giudice federale dell'Arkansas uno stato che si trova qui nel sud degli Stati Uniti ha annullato una legge che vietava l'assistenza alla transizione di genere per i minori che soffrono di disforia che è questa sofferenza causata appunto in chi non si riconosce nel proprio genere di nascita si tratta di una sentenza che blocca per la prima volta un divieto di questo genere motivato non soltanto sulla base del fatto che discrimini le persone transgender ma discrimini gli stessi medici che non sono messi nella condizione di aiutare i loro pazienti questione che quindi amplia in qualche modo il focus delle persone discriminate la legge in questione è la cosiddetta SAFE acronimo inglese di salvare gli adolescenti dagli esperimenti ed era considerata al momento della sua approvazione nel 2021 la legge antitrans più severa del paese di fatto in questo impediva ai medici dello stato di somministrare ma persino di fare riferimento a trattamenti per la transizione di genere ai minori di 18 anni che si trattasse di trattamenti ormonali farmacologici non se ne poteva parlare i medici non soltanto non potevano seguire i loro pazienti non potevano nemmeno parlare di queste cose qua ecco le argomentazioni che hanno spinto i legislatori dell'Arcansas a promuovere questa legge nel 2021 legate a proteggere la salute la sicurezza dei bambini quelle robe lì non sono risultate sufficientemente valide per mantenere in piedi la legge in questione che appunto è durata qualche anno con la corte che ha ritenuto che questo tipo di normative intralci il lavoro e l'etica professionale dei medici che nel caso in cui dovessero fornire assistenza a persone transgender sotto i 18 anni avrebbero persino potuto perdere la licenza questo senza contare ovviamente ma è scontato il disagio per le persone transgender che può degenerare indisturbimentali e persino il suicidio questione che quindi diventa ovviamente un problema sociale per quanto circoscritto è una piccola comunità e quindi ovviamente mi viene da dire diventa un problema di tutti al netto di tutto però la decisione presa dal giudice federale dell'Arkansas è decisamente una buona notizia per la comunità LGBT che è piuttosto rara ultimamente nel panorama statunitense dato che la spinta antitrans è dimostrata dal fatto che in altri stati come l'Indiana la Louisiana il Texas e la Florida che quando si tratta di queste cose ormai sempre a prima fila le politiche sono sempre rivolte a criminalizzare e mettere in un angolo la comunità LGBT con una retorica come dicevamo prima commentando le notizie precedenti strumentalizza spesso il concetto di bambino ora immagino avete delle opinioni molto forti in merito ma prima di esprimerle credo sia il caso di chiederci come funziona nel nostro di paese in Italia per quanto riguarda la transizione in termini più generali ci si affida alla legge 164 del 1992 che riconosce alle persone transgender la loro condizione e prevede a seguito di un percorso presentare un'istanza al tribunale della propria residenza a cui è possibile chiedere l'autorizzazione per il mutamento del nome del genere anagrafico e contestualmente se lo si desideri l'intervento chirurgico vero e proprio e i tempi del procedimento possono essere più o meno lunghi dipende da dove siete dipende dalla burocrazia del luogo in cui vi trovate dipende dai tribunali da tribunale a tribunale per quanto riguarda invece gli adolescenti e nello specifico la disforia di genere si parla soprattutto di un farmaco che contiene la triptorelina una molecola che blocca e sospende la fase della pubertà cioè la transizione tra l'infanzo e l'età adulta che non si tratta di un farmaco che fabbrichi trans che faccia cambiare sesso ai bambini ma comporta il blocco della pubertà di fatto un periodo della nostra vita in cui siamo investiti da cambiamenti fisici importanti soprattutto dei caratteri sessuali primari e secondari consentendo agli adolescenti una finestra di tempo più ampia di riflessione nel momento in cui si dovesse presentare la disforia di genere ecco questo farmaco a partire dal 2019 è stato inserito dall'AIFA a carico del Servizio Sanitario Nazionale per essere utilizzato ovviamente nei casi di disforia di genere a seguito di una diagnosi condotta da un'equip multidisciplinare e specialistica che è una scelta quella dell'utilizzo di questi farmaci per bloccare la pubertà che non vede tutti d'accordo e mentre è apprezzata da alcuni per i vantaggi che può comportare nello stato psicofisico di questi individui è contestata da altri ad esempio è oggetto di preoccupazione da parte del presidente della società psicoanalitica italiana che ha scritto nel gennaio scorso una lettera al ministro della salute Palazzo Schillaci ovviamente questo è un po' il solito dibattito che si accende circa rischi e benefici che negli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere molto bene con la questione dei vaccini no? siamo stati mesi e mesi a discutere circa gli effetti collaterali che avrebbero comportato a fronte dei benefici e se in questi termini si aggiunge il fatto che si parla nello specifico di bambini ecco che tutto giustamente si amplifica e si politicizza e non poteva quindi mancare il vicepresidente del consiglio Salvini che nemmeno qualche giorno fa ha voluto dire la sua con un tweet di indignazione per un padre che ha pubblicato il percorso di transizione di genere di suo figlio cominciato all'età di sei anni controverso molto controverso mi leggo nei commenti e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato vi ricordo ancora che tutto quello che facciamo è sostenuto da un sistema di abbonamento che si chiama Breaking Italy Club e ringrazio ancora una volta tutte le persone che finanziano il nostro lavoro e che oltre a seguirci tutti i giorni o sporadicamente o quando vi va ogni mese contribuiscono al nostro lavoro potete farlo anche voi andando su BreakingItaly.club e se già lo fate grazie fate le brave fate i bravi e ci vediamo domani grazie a tutti